Una donna picchiata, selvaggiamente manganellata a Milano. Una notizia che sta facendo scandalo in tutto il mondo, perché in genere gli agenti italiani non sono mai considerati alla strego di quelli americani, dove vediamo delle scene assolutamente raccapriccianti. Ovviamente c'è un sollevamento di tutti, perché una donna, sembra una donna trans, ma una donna trans in difesa, che sta per terra, rannicchiata, che viene manganellata da quattro agenti, è una cosa che non si può sentire. Allora, come stiamo diventando? Che tipo di paese siamo diventati? Vediamo le scene della polizia americana che molte volte va fuori di testa e fa cose surreali. Noi vogliamo diventare così? Vogliamo diventare un paese violento e un paese senza rispetto di diritti? Questa cosa è grave. Non ho ben capito se sono agenti della polizia municipale o altro, ma chiunque essi siano, delle persone che attaccano continuamente con manganellate una persona in difesa che sta lì disarmata, peraltro. Quindi non è che stia parlando di... Cioè, verso i mafiosi abbiamo queste situazioni assurde come Messina Denaro che riesce a nascondersi per decenni e rispetto a una persona in difesa si fa una cosa del genere. A me sembra una cosa gravissima. Gravissima. Ne stanno parlando tutti ed è giusto che ne parlino perché è una cosa grave. Una cosa grave che un paese civile non deve mai fare. Perché può capitare, trovarsi in una situazione del genere, può capitare a persone assolutamente, magari con difficoltà mentali, con problemi in quel momento. Ma noi scherziamo. E poi queste persone, cioè noi italiani, si manifestano come paese cristiano e cattolico. Ma veramente scherziamo. Io spero che ci siano delle punizioni esemplari nei confronti di chi, tra l'altro, usando la divisa... Questo è ancora più grave. Perché già che l'avessero fatto dei giovani, dei ragazzi, ma chiunque, cittadino impazzito che si metta a mancanare, è una follia. Ma che lo facciano le forze dell'ordine. Che devono dare il buon esempio. Che devono dimostrare come si rispetta la legge. Come si è duri con i criminali e i delinquenti. Ma sicuramente non in questo modo assurdo rispetto a una persona che sta lì rannicchiata a terra. Ma veramente scherziamo. È una cosa gravissima. Sono quelle scene che noi vediamo nei film, o peggio, manco nei documentari, nei telegiornali americani e che ci fanno raccapponare. Perché dici, caspita, guarda gli americani continuando a vendere armi, a fare il curto della violenza, come si stanno riducendo. Noi non dobbiamo prendere questa discesa. Non dobbiamo prenderla. Soprattutto a salvaguarda la stragrande maggioranza degli operatori di tutte le forze dell'ordine che sono corretti, sono precisi, sono sempre attenti ai cittadini. Perché questa è la realtà. La stragrande maggioranza delle nostre forze di polizia, siano nazionali o siano locali, sono persone coraggiose, che si fanno un mazzo tanto e che sono a difesa del cittadino. E se qualcuno invece, con una divisa addosso, fa queste cose, deve essere immediatamente sanzionato proprio a tutela non solo dei cittadini che non devono essere manganellati, ma anche della stragrande maggioranza, del 99,9% del personale, delle forze dell'ordine, che sono persone corrette e che lavorano nell'interesse della collettività. Questo va detto con chiarezza. E poi passiamo alla Commissione antimafia. Proprio nel giorno del ricordo della strage di Capace è stata eletta la presidenza della nuova Commissione antimafia. Non parlo di quello che è successo perché la presidente dell'antimafia è molto discussa, parlo almeno dell'aspetto positivo. che Conte è stato capace di indicare e di far votare a vicepresidente dell'antimafia una persona specchiata come Federico Caffiero de Rao. Un mio amico, una persona che io stimo, infatti ho pubblicato il post con lui perché è una persona che io stimo, stimo. Ci vogliono i codici identificativi? Certo che ci vogliono. Ci vuole tutto ciò che aiuti il cittadino a essere tutelato. Ma dico Caffiero de Rao, persona specchiata che per fortuna è esattamente diversa dalla scelta che la maggioranza ha voluto imporre. Bene, Caffiero de Rao, procuratore nazionale di mafia, candidato indipendente dell'Iste 5 Stelle, una buona scelta di Giuseppe Conte, una scelta che stimo e che credo potrà dare quell'equilibrio a una commissione importante perché in Italia la mafia ancora c'è, è pericolosa, aumentano le mafie e noi dobbiamo continuare a battagliare perché va sradicato questo cancro dalla società italiana. Io credo che, come hanno detto Scarpinata e De Rao, la decenza istituzionale, io credo non solo in questo caso, la decenza istituzionale in molte situazioni con questo governo ci si sta veramente allontanando, allontanando, perché veramente è una cosa grave che si giochi con le istituzioni perché se su una persona ci sono anche solo dei sospetti, tra i tanti candidati si possono candidare persone che siano di sopra di ogni sospetto. Ma questo è quello che si può fare o no? È come quando hai dei personaggi assolutamente surreali e tu li metti, per esempio, a fare i presidenti di istituzioni che devono essere di garanzia. Ma santi Dio! Ma è chiaro che uno può essere anche di destra, ma nella destra ci sono persone anche che possono essere spese per incarichi istituzionali in modo trasparente. E che diamine! E allora, fortuna che Conte ha rimediato, devo dire, con grande senso delle istituzioni, dando un vicepresidente alla Commissione che è stato il procuratore nazionale antimafia e ha messo in Commissione anche persone come Scarpinato, che è un'altra figura rappresentativa di una militanza vera, lavorativa, ma non solo lavorativa, perché uno può stare dentro la magistratura ma non essere così determinato su questo. E a Pò è ancora il ponte. Adesso mi ha anticipato Gesualdo perché l'ho scritto nel post di accompagnamento a questo video. Salvini, il manicomio italiano continuo, il governo più pazzo del mondo. Ecco, facciamo l'hashtag, il governo più pazzo del mondo. Poi un giorno mettiamo la frase di Ignazio Larussia, che di fronte al disastro pensa di prenderselo con i ragazzi, l'ultima generazione dice andate a spalare. Invece di porsi il problema dei drammi istituzionali che ci sono, lui se la prende con i ragazzi. Ma per favore, mai una vergogna. Mai una vergogna. Mai una vergogna. La presenza degli organi di garanzia spettano posizioni, chiede Luigi. Sì, di alcuni, non di tutti. Storicamente la commissione antimafia è presieduta spesso da esponenti della maggioranza. Quindi no. La commissione di vigilanza e il controllo sui servizi segreti sono invece presieduti in genere da esponenti dell'opposizione. E questo l'hanno mantenuto. La commissione antimafia e la commissione ecomafia erano presiedute spesso da esponenti della maggioranza. Però c'è maggioranza e maggioranza e uno può cercare. Allora, il Salvini, che dovrebbe preoccuparsi dei guai che ci sono in Emilia Romagna e nel nord e nel sud, e in tutto il paese sulle infrastrutture e sui trasporti, cosa ha pensato di fare? Oggi ha tirato in ballo addirittura Leonardo da Vinci e Raffaello. Lui chi è? Leonardo da Vinci? O è uno che avrebbe come consulente Leonardo da Vinci invece che molto spesso faccendieri che la Lega ha reclutato a bizzeffe negli anni scorsi con una certa allegria? Cioè lui paragona la vicenda del ponte a Leonardo da Vinci, che ha fatto opere meritorie di canalizzazione nel nord Italia, e invece di avere il senso almeno del ridicolo, non ha il senso ridicolo. Ha detto Raffaello, Leonardo da Vinci, poi Raffaello ovviamente ha a che vedere con l'arte, quindi non so se vuole anche dipingere sopra il ponte. Ma Leonardo da Vinci, un ingegnere, una figura storica, un artista completo, una persona mitica, in bocca a Salvini. Ma Salvini, salmene chi è Leonardo da Vinci? Ha visto forse il cenacolo di Leonardo dipinto a Milano, visto che lui è milanese, è stato considerato comunale di Milano. Ma vogliono fare questa cosa del ponte. Tanto il ponte non si farà, non lo sappiamo. Esplicemente perché quel ponte non sta in piedi. Cioè gli scienziati, in questo caso gli ingegneri, gli esperti, i tecnici, già all'epoca dicevano che cosa? Hanno detto che ovviamente un ponte che ha solo due pilastri, da una parte e dall'altra, con una distanza di tre chilometri, non solo non esiste al mondo, ma uno potrebbe dire noi siamo i primi a farlo. Perfetto. Gran parte degli ingegneri dicono che non sta in piedi. che non regge in una zona, peraltro, sismica, con venti a cento all'ora. Si è visto il povero cittadino che è morto per il vento a cento all'ora che ha fatto cadere un albero in testa. Quindi è una zona dove c'è questo problema. E che col cambiamento climatico le cose continueranno a peggiorare. Cioè avremo venti più forti, avremo fenomeni climatici più forti, eccetera. Poi la zona è sismica. Ed infine, infine, in ogni caso, ammesso che si riuscisse miracolosamente a trovare il modo di fare un ponte che è tre volte più lungo di quello più lungo che esiste al mondo a due campagne. Perché, guardate, voi avete visto tanti ponti, ma quei ponti che vedete sono ponti con tanti pilastri. Cioè sono i ponti che stanno, per esempio, tra la Danimarca e la Svezia, sono ponti con decine di piloni. E quei ponti, certo che possono stare in piedi. Ma lo stretto è molto profondo, quindi non si possono fare i pilastri dentro lo stretto. Allora, il ponte sullo stretto dovrebbe partire da una parte, dalla Sicilia, e arrivare in Calabria. O viceversa, quel ponte, secondo gli ingegneri, non regge e in ogni caso non reggerà mai un treno. Quindi, ammesso che si riuscisse, con un miracolo ingegneristico, a fare una cosa che non si è mai fatta, non è possibile farci passare un treno, perché il treno è pesantissimo. E perché, come dire, secondo le leggi proprio della fisica, se ci vuoi passare un intero treno per distribuire il peso, questo ponte dovrebbe essere non solo lungo tre chilometri, ma chissà quanto largo. E quindi non c'è costi assurdi, 15 miliardi solo come ipotesi di partenza, figuriamoci che succede. Ricordatevi il mose, che il pezzo poi è decuplicato. Allora, per favore, basta, basta sparare puttanate, per favore. È vero che è il governo più azzo del mondo, è vero che è il governo Manicomio, è vero che, devo dire, la Meloni si è trovata, come dire, la Meloni sembra quella più prudente dentro una parte di ministri, però se è prudente e non riesce a tenere a bada questi ministri, allora si deve dimettere, perché se anche lei a volte è più prudente, ma c'è uno che si paragona Leonardo, chi altro si paragona oggi ha? Qualcuno ci sta col coso di Napoleone in testa che gira dentro Palazzo Chigi? Non lo so, forse sì. Ci sarà anche qualcuno con sopra scritto Napoleone? Non lo so, non lo so, ma è assurdo. E poi hanno iniziato anche a fare una discussione sul fatto che il presidente dell'Emilia Romagna non può fare il commissario all'emergenza. Sempre i governi hanno nominato commissari all'emergenza i presidenti delle regioni. I governi di sinistra hanno nominato presidenti che erano di destra, i governi di destra hanno nominato presidenti anche che erano di sinistra. Ma perché? Perché c'è la collaborazione istituzionale, perché si cerca di non scontrarsi, perché di fronte all'emergenza si cerca di aiutare la gente, non di fare sceneggiate da quattro soldi o ripicche. Solo perché? Perché Salvini non ha vinto in Emilia Romagna, ha vinto Bonaccini. Quando Salvini faceva la campagna in Emilia Romagna, andava a suonare alla porta dei cittadini per dire che è una cosa da pazzi. E quindi poiché in Emilia Romagna si vota tra due anni, questi temono che Bonaccini se facesse bene il commissario e amministrasse bene, per loro sarebbe un problema. Ma così si può andare avanti. Ma questo è un governo decente per il paese. E ancora, sul ponte, cosa risponde Salvini al dibattito sul ponte? Risponde che deve rispondere il Presidente della Repubblica. Addirittura. Cioè Salvini è talmente incapace di dare motivazioni scientifiche, logiche, politiche al ponte, che è uno spreco, al punto che cosa dice? Dice no, ma perché il decreto l'ha firmato il Presidente, chiedete al Presidente. Ma che cosa devono chiedere al Presidente? In Italia il Presidente della Repubblica è un notaio, nel senso che deve annotare se il decreto legge è stato approvato regolarmente dal Parlamento che risponde a dei requisiti. Secondo me il requisito di urgenza non c'è e quindi quello avrebbe dovuto eccepire, ma il Parlamento ha detto che c'era, le commissioni parlamentari, Camera e Senato hanno detto che c'era il requisito di costituzionalità e il Presidente, quindi, a meno che non deve aprire pure lui uno scontro istituzionale, ma non è che il Presidente quando firma si assume la scelta politica di quella cosa, perché non è nella nostra Costituzione. Non è nella nostra Costituzione. Il Presidente è un notaio che ci siano, seguite le procedure, non è che può dire a me il ponte non mi piace e quindi io non lo firmo, sennò aprirebbe anche lui un conflitto istituzionale. Poi, ripeto, io penso che in alcuni casi una maggiore durezza nei requisiti di urgenza, ma se poi loro comunque facevano una legge e la approvavano, in ogni caso il Presidente doveva firmarla. Sia chiaro, noi dobbiamo dire le cose come stanno, perché se no apriamo, come dire, chissà quali controveste. Però la cosa paradossale è che Salvini è così debole nella capacità di motivare perché al ponte che cosa risponde in aula? Chiedetelo al Presidente, cioè chiedetelo al papà perché io non sono capace di spiegare le cose. Ma per favore. Ma un Ministro dell'Infrastruttura ci deve dire, questo ponte sta in piedi, punto uno, non lo so. Due, economicamente a cosa serve? Perché il ponte senza, peraltro, nemmeno il treno, che collega due città piccole con un traffico limitatissimo, cioè tranne d'estate che c'è il gruppo che scende in macchina verso la Sicilia e quando ritornano il resto dell'anno il ponte sarebbe usato pochissimo. Terzo, se vuoi un minimo ripagare il pedaggio del ponte dovrebbe essere due o trecento euro ogni passaggio. Ma quanta gente cacera tanti soldi per andare sul ponte quando ha poi i traghetti che vanno velocemente e che hanno sempre funzionato. Allora, è evidente che si tratta di una bufala. Si tratta di un'arma di stazione di masso, visto che uno l'ha scritto. Esattamente così. Per non parlare del fatto che loro non stanno facendo niente sulle strade, le autostrade, eccetera. È come a Roma. A Roma il disastro dei rifiuti è peggiorato con la gestione di Gualtieri. È una monnezza sta città. Poiché però si parla di un futuribile inceneritore che risolverà i problemi, intanto si vive tra i topi e l'immondizia. La povera raggia almeno ci metteva la faccia e cercava di trovare delle soluzioni e veniva attaccata sempre. Adesso il sindaco è scomparso, nessuno sa niente, non si sa dove è il sindaco. La città è nella monnezza. E si promette che in un futuro, chissà quando, ci sarà questo mitico inceneritore. Cioè siamo trattati non come sudditi, come imbecilli. Perché tu nel frattempo dico, ma riesci a garantire lo spazzamento a terra o no? Ma può essere che questa è una città, ma altre città, dove i cassonetti sono pure svuotati, ma attorno è tutta monnezza. Quindi semplicemente è un periodo di organizzazione. Cioè io riesco a togliere i cassonetti, ma non ho qualcuno che spazza a terra. E questa è la capitale d'Italia. E noi dobbiamo sentire ancora chiacchierare su che? Sull'inceneritore. Capito? Sempre prendere in giro la gente. Oggi stai una merda. Poi, forse, io ti garantirò in futuro. La Sicilia ci metto, quant'è? 13-14 ore da Trapani a Ragusa. E però io ti prometto il ponte. Oggi stai inguaiato. Cioè non cammini. La sindaca di Alessandria della Rocca l'altro giorno ha detto a Salvini, ma scusa, io qua c'ho un paese sui Monti Sicani che sono tra Agrigento e Palermo. C'ho una strada che mi mancano 18 chilometri per andare all'ospedale o alle scuole. Ma mi date questi 18 chilometri di estate? No, quello gli risponde, no, ma io ti darò il ponte. Cioè è proprio una presa in giro. Cioè questi nel frattempo non riescono ad arrivare all'ospedale o alla scuola e lui che va là e gli propone il ponte. In Sicilia non funzionano le strade. In Sicilia agrigento, per arrivare ad Agrigento, lui è andato ad Agrigento a fare il convegno. Ad Agrigento, io ho mio nonno che era dalla provincia di Agrigento, proprio di quel paese. Ad Agrigento, se tu vuoi arrivare ad Agrigento, devi atterrare a Palermo e ci metti due ore. Atterri a Catania e ci metti due ore. Qui stanzialmente è la città e non ci sono treni, non c'è niente. Quindi una città isolata. Tu vai là e che gli dici? No, non che ti faccio la strada, l'autostrada, qualche cosa. Non che ti sistemo i treni e li faccio funzionare. No, io ti prometto che poi in futuro avrai il ponte. Peccate che Agrigento sta a centinaia di chilometri poi da Messina, quindi che se ne fa di sto ponte? Non riesce ad arrivare a scuola, non riesce ad arrivare all'ospedale se sta male uno, però avremo il ponte. Eh, in futuro il ponte. È veramente odioso sentire questa specie di sceneggiata, un manicomio, un governo più pazzo del mondo che ogni giorno ne spara una più forte di un'altra. Da pazzi. Veramente da pazzi. E quindi, con l'appello a dire gli bloccheremo il ponte perché tanto questo non lo farà. Non lo farà. Durerà tempo, poi eh, e dobbiamo bloccargli pure il ponte. Questa è la verità. È una cosa assurda. Ovviamente vanno sostenute le opposizioni se riescono a fare sempre più un'azione vera e non trascinate nella sceneggiata Renzi-Calenda che è un'altra cosa surreale. Cioè ogni giorno c'è questa sceneggiata Renzi-Calenda. Si lasciano, si pigliano. Ma quelli che sono iscritti ad azione a Italia Viva non sono un po' scandalizzati e schifati del fatto che i loro capi facciano questa sceneggiata. Uno dice all'altro che non hai preso le pillole, quell'altro dice che sei uno che è affarista, che prendi solo i soldi. Almeno, non so, in un tempo, se ci fossero state le forze politiche avrebbero, come dire, tolto questi due segretari, avrebbero messo due persone, magari due giovani, a fare il segretario di azione italiana. Invece no. Perché i partiti non sono partiti veri ormai. Questo dico tutti. Non solo l'Italia vive cosa. La gran parte delle formazioni politiche non hanno più nessuna vita democratica. Ci sono dei proprietari che alimentano quelli che stanno vicino a loro. E ci vuole la famosa legge sui partiti che potrebbe consentire alle persone che aderiscono a un partito di avere dei diritti. Un po' fa eccezione, per fortuna, il 5 Stelle che oggi sta facendo votare i suoi iscritti in Molise per fare le liste regionali del Molise. Almeno va detto che i 5 Stelle, poi sicuramente possono evolvere, possono migliorarsi, non basta solo questo, ci devono essere forme diverse in cui si può confrontarsi, c'è tante cose ancora da fare. Ma almeno i 5 Stelle questo rito democratico lo celebrano. Gli altri sono completamente ormai partiti allo sbando. Il PD è una serie di... Anche il PD ha delle procedure democratiche, ma è in preda a tantissime correnti, i gruppi eccetera che tu parli con uno e non sai che succede. Ma l'altro giorno, nell'iniziativa fatta da ultima generazione, i ragazzi che sono stati accusati da Ignazio Larussia di aver sporcato la facciata del Senato e gli ha chiesto che vuole fare condannare a tre anni di reclusione, tutta una serie di cose. Gli evasori fiscali, i ladri, condonati. E invece i ragazzi che usano la vernice lavabile pulita dopo due ore dovrebbero fare tre anni di galera, secondo Larussia e alcuni altri. Viene la responsabile nazionale, bravissima persona, Marta Bonafoni, del PD, che giustamente si rende conto dell'assurdità e da solidarietà, dopo poco che si scopre che il Comune di Roma guida PD e si è costituito pure lui, parte civile, insieme alla Russia contro questi giovani. Ma, e devo dire, ma qualcuno si parla, si ragiona, ma qualcuno ha l'idea che costituissi parte civile contro dei giovani perché hanno sporcato con della vernice lavabile la facciata del Senato. e sono rimasti là per farsi arrestare, per pagare la multa, perché la multa è prevista e loro la pagano. E io sono tra quelli che sono disponibili a metterci un contributo per fargliela pagare, perché devono poterla pagare, la multa, questo è giusto. E lo fanno, perché è la disobbedienza civile. Io violo una norma e accetto per manifestare una mia contrarietà. E ci sta, ci sta. Hanno fatto una cosa di disobbedienza civile. Ma la disobbedienza civile significa che io vengo condannato per il reato che c'è allora, no? Il reato o la multa è un'ammenda. Cioè, se tu sporchi una parete pubblica, c'è l'ammenda, cioè si paga una multa. Che cosa vogliono fare? Perché questi sono giovani, devono andare in galera. Cioè, gli contesto non il reato di imbrattamento perché ho sporcato, no, di danneggiamento come se avessi rotto il Senato, come se avessi sfasciato il danneggiamento se io ho fatto un danno permanente, non che ho sporcato e si ripulisce. Io voglio capire quanti in Italia sono stati i tifosi, per esempio, che sono stati puniti o hanno avuto la multa per imbrattamento. Avrebbero avuto solo la multa. Nemmeno la multa hanno avuto. E non è che io dico che dobbiamo perseguire tutti. Però, la decenza di non attaccare dei giovani ventenni condannandoli a anni di reclusione perché cosa? Perché hanno... Perché tra l'altro poi con la motivazione per di più non l'hanno fatto per vandalismo, l'hanno fatto perché segnalano che, e il cambiamento climatico lo dimostra, che si rischia di non dare ai giovani un futuro in questo pianeta. E quindi loro chiedono che si smetta di dare soldi ai combustibili fossili. Questo chiedono. Ricambio a salvo il saluto da Palermo perché, come ho parlato prima della Sicilia, Sicilia mi è particolarmente cara nel cuore ed è una regione che avrebbe bisogno veramente di molte iniziative. Non del ponte ma di cose vere, di cose serie. Basta prendere in giro i siciliani con il ponte quando non si fanno le strade e non si fa la ferrovia. Cioè, è una cosa per me. io esco pazzo quando vedo queste cose. Comunque, è possibile. Ma com'è possibile? Bene. Allora, vi saluto ovviamente e vi auguro una buona serata. Ovviamente, come ho detto all'inizio, io considero gravissimo aver visto le immagini di quattro agenti che mangalellano una persona disarmata e indifesa. E immagini che io non voglio vedere da cittadino italiano di un paese dove la stragrande maggioranza delle forze dell'ordine sono serie, democratiche e rispettose dei cittadini ed è scandaloso che alcuni agenti facciano cose di questo genere che ci rendono alla stregua della peggiore immagine che ci arriva dall'America o dalle dittature. Queste sono le immagini che arrivano dalle dittature. Dalle dittature. Sono immagini che vediamo quando si reprime l'opposizione in Iran. quando si opprime l'opposizione in Corea del Nord o anche in paesi autocratici come è stata la Russia o anche dove c'è un'esagerazione dell'uso delle armi e della violenza come in alcune zone degli Stati Uniti d'America neanche in tutte perché gli Stati Uniti hanno zone dove è tollerato un livello di violenza intollerabile in altre parti degli stessi Stati Uniti. Quindi noi dobbiamo rimanere un paese civile che ha una sua logica. Bisogna attaccare con durezza i delinquenti veri i mafiosi a cominciare dai mafiosi ma non si può pensare di attaccare delle persone indifese mancarellato. Questo è intollerabile e io spero che ci siano degli interventi adeguati alla gravità di quello che abbiamo visto che è successo. Ecco, io vi saluto ringrazio Viva l'EcoDigital vi ricordo che è un nome strano ma significa ecologia e digitale e significa che dobbiamo fare la transizione ecologica e la transizione digitale e dobbiamo usare il digitale come lo stiamo facendo adesso per diffondere informazione possibilmente buona informazione perché rischi che ci sono un sacco di fake news in giro e peraltro adesso c'è una fake news io ieri ho fatto una verifica perché ne ho guardato che addirittura dice per dire che non c'è cambiamento climatico e aiutare i petrolieri e i loro amici si dice che l'alluvione in Emilia Romagna l'ha fatta una diga che ha cacciato fuori dell'acqua ma quale dica poteva cacciare tanta acqua da riempire l'Emilia Romagna ne è imbecilli ma ne è imbecilli e noi dobbiamo assistere a gente che ci manda anche gente normale che ci manda in giro cazzate che non hanno niente a che vedere perché? per dire che non c'è il cambiamento climatico e quindi non dobbiamo non dobbiamo attaccare i poveretti che hanno il petrolio il carbone no? e il gas quindi c'è qualche mandante di questi cioè gli imbecilli ci mettono la loro ma c'è chi sostiene gli imbecilli cercando di dire spiegazioni strane per cose che hanno una logica tutti i meteorologi e i climatologi hanno visto quanto ha piovuto ha piovuto perché il Mediterraneo è surriscaldato perché abbiamo riscaldato il pianeta questa è la realtà e allora per favore ma finiamolo di fare qualche foto all'acqua che esce dalla diga che usciva anche prima perché è troppo pieno che esce stabilmente e inventare che quello sia la causa e non il cambiamento climatico è una vergogna ed è criminale perché significa che non si spiega poi alla gente che quando ci sono i cicloni possono morire perché se gli diciamo che invece è solo pioggia è solo poi una diga che è stata usata male gli stiamo spiegando che non è il ciclone e invece gli allarmi ciclone vanno rispettati perché sennò la gente ci muore chiaro? buona serata ciao a tutti